Un'estate sicura a Francavilla per quanto concerne gli eventi estivi, grazie anche alla SafeGate. Voi avete fornito al Comune di Francavilla i dispositivi proprio per la sicurezza sanitaria. Alle nostre spalle abbiamo uno di questi dispositivi, vogliamo spiegare come funziona. Un ringraziamento all'amministrazione di Francavilla, al Sindaco, al suo staff, tutta la Giunta e il Consiglio Comunale. In assoluto penso che sono stato il primo ente che si muove in questa direzione, forse a livello italiano, quindi diamogli atto di questa enorme sensibilità. È una soluzione, come potete vedere, abbastanza semplice. Abbiamo racchiuso alcune tecnologie per sanificare, cioè non è sufficiente disinfettare o igienizzare un luogo, ma bisogna continuare a tenerlo pulito. Quindi psicologicamente le persone, in maniera naturale, poco aggressiva, possono tranquillamente tornare a stare insieme, avvicinarsi, ritornare nei ristoranti, nelle gelaterie, nelle pizzerie, nelle palestre, tornare al cinema, partecipare a eventi come quest'estate. Cioè bisogna tornare a stare insieme, quello che eravamo prima fondamentalmente, veramente con tranquillità. Un box dove si passa attraverso questo box e si viene sanificati? Sì, noi abbiamo pensato a una tecnologia innovativa a base, concettualmente, a un grande aerosol, un aerosol a ultrasuoni industriale, che viene nebulizzato a un liquido igienizzante a base di perossido di idrogeno, la comune acqua ossigenata. Ci abbiamo messo una puntina di acido lattico e poi, grazie al consiglio di qualche donna, abbiamo detto, ma dategli anche un'essenza di aloe e quindi anche questo leggero profumo piacevole. Poi non bagna, quindi va bene sia nella stagione estiva che sicuramente, se dovesse esserci necessità, anche nei periodi un po' più freddi, ma non tanto per contrastare il coronavirus. È un sistema che secondo me bisogna continuare a usare sempre per migliorare l'igiene degli ambienti, degli ospedali, delle case di cura. Cioè, un po' di igiene fa bene. Poi vediamo anche un dispositivo elettronico per la misurazione della temperatura. Eh, questa è la versione più evoluta, infatti si chiama Advanced, è riservata in assoluto dove c'è il controllo degli accessi. Questo è un progetto brevettato. Noi abbiamo brevettato la sanificazione, il controllo della temperatura e il controllo degli accessi. Quindi c'è un database di immagini. Se le immagini vengono riconosciute, le persone vengono identificate, appunto, e praticamente uno segnala che alle 18.30 o piuttosto la mattina è entrata la persona Tizio e Caio con la temperatura non corretta e quindi dovrebbe teoricamente tornare a casa, non entrare in azienda, in ufficio o da qualunque altra parte. Questa è la prima esperienza con un ente pubblico. Voi ovviamente pensate di poter ampliare la vostra clientela anche tra i comuni della nostra regione? Io sono un imprenditore un po' sotto, come si dice, un profilo un po' basso. Non mi occupo di politica, non conosco neanche i meccanismi della politica. Cioè nel passato ho qualche esperienza molto marginale. Mi ha fatto piacere veramente che una pubblica amministrazione è stata più sensibile forse di chi doveva esserlo. Cioè anche una piccola amministrazione, questa è la cosa, perché noi ne abbiamo parlato anche a livello regionale, ne abbiamo parlato a livello nazionale e al momento sono rimasti tutti scettici. E quindi io voglio dare atto pubblicamente al sindaco di Francavilla e alla sua giunta, i suoi assessori veramente al Consiglio Comunale per questo coraggio.